Con la cianua acrilica e serrature bloccate questa mattina a Lanuti, studenti fuori dall'istituto alle 8.00. Arrivano i vigili del fuoco pochi minuti e tutto torna alla normalità, ma arrivano anche i carabinieri di Fano. Burla di fine anno o atto vandalico? Difficile dirlo così su due piedi, di certo è che su questo episodio ora stanno indagando i militari della stazione locale per capire la natura del gesto che però ha creato comunque allarme tra genitori e docenti in un giorno che doveva essere di festa. Abbiamo capito subito che erano state inserite probabilmente della colla all'interno delle serrature e a quel punto chiamato i vigili del fuoco. La cosa diciamo che comunque ha creato un po' di apprezzione e di disagio perché in questa scuola frequentano tra la primaria e la secondaria circa 800 alunni per cui qui fuori era una marea di persone in attesa. Alla fine grossi disagi non ci sono stati perché i ragazzi sono entrati a lezione con 5-10 minuti di ritardo rispetto alla normalità. Certamente sono cose che fanno pensare queste perché molto probabilmente qualcuno ha pensato di fare uno scherzo però insomma lo scherzo poi crea qualche disagio e anche qualche danno perché poi adesso comunque bisogna provvedere a cambiare tutti i chiavistelli delle porte. Questa scuola ha dei confini che sono poco chiusi, dei cancelli che si possono superare facilmente. Sicuramente io credo che bisognerà assolutamente provvedere a un sistema di videosorveglianza. Spero che il comune colga l'occasione per pensare a questa soluzione. Le serrature bloccate sono state quelle degli ingressi principali del cancello esterno da dove entrano i ragazzi delle medie in uno degli istituti più numerosi di tutta Fano. Con il loro mestiere i vigi del fuoco si sono introdotti nell'istituto da una porta d'accesso secondaria e poi dall'interno hanno aperto le porte d'ingresso dai maniglioni antipanico senza quindi causare alcun danno alle strutture delle porte. Passato il momento di disorientamento in pochi minuti tutti gli studenti erano al loro posto nelle classi. Quindi se l'intento era in coloro che hanno agito creare un po' di subbuglio a fine anno operazione diremmo poco riuscita. Operazione riuscitissima invece quella di chiudere l'anno festeggiando con i ragazzi fuori dalle aule con chitarre e strumenti musicali per darsi l'arrivederci all'anno prossimo per chi resta e il congedo in bellezza per chi passa invece alle superiori.